youtuber man, youtuber man, ci servono idee, nuove proposte, basta cose vecchie, lei è un tipo che piace ai giovani, ai bambini, eppure agli anziani, ci vuole qualche idea così però sappiamo che lei ogni tanto è un po', quindi le dobbiamo calmare gli apparenti spesiti, vabbè, lei non diceva, però non deve dire neanche i nomi dei due suoi conoscenti ma in pratica che cosa devo fare? Ma un video di che è apparentemente di catatatac, sai, la vita fa tatatac, ah ho capito, e la vita fa tatatac, tatatac, wey, allora, se vuoi fare youtuber fai tatatac, 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 tatatac